Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, gli orari del trasporto pubblico in città per i giorni del Natale. Il 24 dicembre le linee di bus tram e metropolitane si fermeranno alle ore 21. Regolare il servizio dei bus notturni a Natale, le linee di superficie e le metropolitane saranno attive dalle 8.30 alle 13 e poi dalle 16.30 alle 21. Il servizio riprenderà alle 23.30 con le linee di bus notturne a Santo Stefano, normale orario festivo. Per quel che riguarda le ferrovie,